benvenuti al circolo stella azzurra per quella che è la quattordicesima giornata di serie a si affrontano oggi il checco dello scapicollo era la roma calcio 8 gsa a sacchi in aria insieme a lui anche giannini palla dietro però per maschietti che non riesce a prendere il pallone va nardecchia il destro c'è anche seferi vediamo che succede il tiro che prende la traversa prova ad accentrarsi potrebbe andare col mancino subisce forse fallo non per l'arbitro giannini palla dentro verso maschietti che non arriva sul pallone per ottima difesa il checco dello scapicollo ancora una palla per la roma tiro deviato ancora un tiro e ancora de bernardo era stato proprio pompeo attenzione a nardecchia il tiro deviato poi bogdanov in qualche modo va a segnare il gol dell'uno a zero per il checco dello scapicollo sempre lui sempre krasimir bogdanov dan quozzo ma quasi sicuramente sarà il mancino di princicali che infatti parte adesso è uno schema però nardecchia è liberato prova il piazzato e salva sulla riga solo per un momento ancora un salvataggio della roma e ancora un tiro può pensare al tiro da princicali col mancino princicali merciaro in qualche modo e poi arriva sulla deviazione di merciaro proprio il numero 13 mattia scala il sostituto di krasimir bogdanov ancora la roma adesso che deve inventare qualcosa il tiro e il gol che ridà speranza ai giallorossi subito dopo aver subito la seconda rete va ad accorciare le distanze stefano pettinari ma qui inquinio col mancino deviato e ancora qui inquinio e de bernardo un miracolo che riflesso supera la metà campo pettinari va col mancino e de bernardo ancora su pettinari la mette dentro verso il secondo palo il tiro e stavolta è merciaro a salvare i suoi palla ancora per il checco cichella princicali col mancino che palla di princicali deve solamente deviarla verso la porta avversaria nuovamente scala che segna la sua doppietta risultato 3 a 1 per il checco dello scapicollo ormai dovrebbero essere quasi passati tre minuti di recupero guadagno con la testa ed ecco infatti che arriva il triplice fischio dell'arbitro quattordicesima giornata che termina con la vittoria del checco dello scapicollo per 3 a 1 su una roma gsa coreacea e mai doma questa sera questa è veramente una bella partita occasione per noi e per loro però chiaramente forse c'è qualcosa in più visto come ho perso l'altra partita nulla togliere servizi cottini perché non è che ha rubato nulla però chiaramente abbiamo avuto due tre deviazioni quindi chiaramente la partita è stata un po' sfortunata però chiaramente abbiamo accettato il risultato del campo come chiaramente questa sera penso che il mio amico Michele Villani accetterà il risultato del campo perché comunque sia stata veramente una bella partita corretta in campo è stata veramente una dimostrazione di due belle squadre che comunque si hanno dimostrato di giocare in buon calcio tutte e due